3 flash. Intanto per i familiari delle vittime che io assisto, l'incentivo a partire, come è stato chiamato, sono le persecuzioni che subiscono nel loro paese. Questo mi hanno raccontato. Su quella barca c'erano mogli che hanno perso i mariti, c'era un attivista delle Nazioni Unite che ha cercato nel suo paese di salvare gli altri e qualcuno avrebbe dovuto salvare lei. Una rivista spagnola di recente ha scritto che per una donna in Afghanistan il solo fatto di esistere è un atto di ribellione. Vengono qui perché scappano da questo. Questo è quello che mi hanno raccontato in questi giorni. E quanto alle ONG dico da avvocato penalista che i procedimenti nei loro confronti sono stati tutti archiviati perché le regole e le norme ci sono già. C'è l'articolo 54 nel codice penale che dice che non è punibile chi interviene per salvare qualcuno dal pericolo attuale che sta subendo. Cioè non c'è bisogno di scrivere le regole. Questa regola sta nel codice penale dal 1930. Parliamo di situazioni semplicissime da affrontare sotto il profilo giuridico. Quali regole secondo lei sono state violate a Cutro dal punto di vista del diritto? È stato violato il diritto del mare, sono state violate le convenzioni internazionali, è stata violata la legge domestica perché ognuna di queste norme stabilisce che bisogna intervenire. Non serve il pericolo imminente. Il regolamento UE del 2014 al quale noi soggiacciamo, al quale dobbiamo sottostare, dice chiaramente che basta per intervenire la possibilità che si possa pensare alla probabilità del pericolo. Non il pericolo, la sola possibilità che si possa pensare alla probabilità del pericolo.